Bentornati o benvenuti se siete nuovi in questo canale, in quel caso vi invito a iscrivervi. Oggi parliamo di una perla del cinema italiano, secondo me. Ti mangio il cuore, che bello, che bello quando il cinema italiano riesce a tirare fuori questi film che ti fanno dire ok, ok, caspita quanto siamo bravi in Italia a raccontare storie. Ogni volta, credetemi che succeda una cosa del genere, non è per enfatizzare adesso, per esagerare, ma davvero mi emoziono. Vuoi un po' per il mio amore verso il cinema in generale, vuoi un po' per il mio amore verso il cinema italiano, per la mia voglia di far capire all'Italia e al mondo che il cinema italiano è davvero in grado di raccontare storie e di farlo per bene. E quindi quando vedo questi film che riescono a colpire, che riescono a raccontare una storia così profonda, in una maniera così originale, davvero, davvero mi emoziono. Sarò esagerato io, sarà esagerato il mio amore verso quest'arte, ma davvero per me è una grandissima emozione. Ti mangio il cuore è il nuovo film di Pippo Mezzapesa, di cui si è parlato tantissimo, infatti sono sicuro che chiunque di voi l'abbia sentito nominare almeno non una ma dieci volte, perché era l'esordio al cinema di Elodie. Si è parlato tantissimo di questo film, non tanto per la storia che andava a raccontare, ma per il fatto che veramente era questo esordio al cinema di Elodie che tutti non vedevano l'ora di vedere. Io devo dirvi la verità, un po' sono andato perché era l'esordio al cinema di Elodie e volevo vedere appunto come esordisse, come era nei panni di attrice. Un po' mi ispirava la storia, mi aveva attirato il trailer, mi piaceva il fatto che attingeva un libro che si ispirava a una storia vera, anche se poi magari anche nel film vengono stati nomi fittizi eccetera, però di base, di fondo c'è una storia vera. E poi mi piaceva il fatto che questo film mischiasse attori più conosciuti con attori meno conosciuti. Quando succede questa cosa nel cinema mi fa impazzire, è uno di quegli elementi che mi spinge ad andare a vedere il film, perché quando c'è questo miscuglio di attori più conosciuti, meno conosciuti, insomma mi piace perché secondo me il film trova il giusto equilibrio tra chi ci va per vedere gli attoroni che sicuramente faranno una performance formidabile e chi invece come me è incuriosito anche dallo scoprire nuovi talenti. E questo film, credetemi, fa scoprire nuovi talenti perché è incredibile, anche gli attori meno noti sono tutti bravissimi in questo film. Inoltre avevo già visto Il Cattivo Poeta con Francesco Patanè e sapere che lui era uno dei protagonisti insieme a Elodie mi ha spinto perché la sua performance nel Cattivo Poeta mi era piaciuta tantissimo, quindi sapere che lui era presente in questo film e era il protagonista, diciamo, mi ha spinto ancora di più ad andare a vedere questo film. Quindi i presupposti c'erano tutti, ma ero solamente curioso, non avevo alte aspettative, cioè non è che sono andato al cinema convinto di andare a vedere un capolavoro, sono andato al cinema convinto di andarmi a vedere un bel film che mi aveva incuriosito, ma poi era cinema italiano, quindi se si tratta di cinema italiano diciamo che punto a non perdermi niente. E invece con gran sorpresa devo dirvi che ero convinto di andare a vedere un bel film e invece sono andato a vedere un film che mi ha rapito dall'inizio alla fine. Cioè per dirvi, e poi entriamo nel vivo del film, a me pochissime volte mi capita di rimanere per l'intera durata dei titoli di coda. E mi capita per due motivi, o perché voglio vedere bene chi ha lavorato al film, perché magari, non lo so, mi è piaciuta una cosa in particolare e voglio vedere chi la realizzate, quindi piuttosto che poi cercarmela su internet mi godo i titoli di coda, oppure perché il film mi ha spiazzato, mi ha rapito e uso i titoli di coda per riprendermi. Ecco, qui è successa quest'ultima cosa, cioè il film mi ha rapito e quindi ho un po' usato i titoli di coda per tornare a respirare, ma poi perché durante i titoli di coda c'è la canzone che è cantata da Elodie e... non mi ricordo chi, scusatemi. Il singolo di Elodie lo avevo già ascoltato e devo essere sincero non mi aveva fatto impazzire, mi avevo un po' lasciato indifferente, ma perché secondo me è una di quelle canzoni che è ascoltate non contestualizzate alla storia, è un po'... è una bella canzone, ma un po' fino a se stessa. Invece, ascoltata al termine del film, quindi dopo aver visto tutta la storia, credetemi che è come se fosse il continuo del racconto. Ho già parlato tantissimo, ma non vi ho ancora detto di cosa parla il film, non abbiamo detto niente, vi ho solo detto le mie impressioni, ma questa recensione sarà un po' più a sensazione, così come è stato per me, vedere questo film, travolgente, insomma, ma quindi ho visto ieri il film, non ho ancora letto niente, non ho letto recensioni, non ho letto pareri, niente di niente, voglio solamente sfogare tutte queste mie emozioni adesso che le ho immagazzinate, le ho rielaborate, quindi ho metabolizzato il tutto e voglio parlarne con voi come sempre. Comunque di cosa parla il film? Parla della faida tra due famiglie mafiose del Gargano in Puglia, cioè i Malatesta e i Campo Reale, che dopo essersi fatti guerra per diversi anni, diciamo, trovano un po' di pace, nel senso non vanno d'accordo tra di loro, ma smettono per un po' di farsi la guerra e questa voglia di rivalsa viene di nuovo svegliata dall'amore proibito tra i due protagonisti che appartengono alle due famiglie contrapposte, ovvero Andrea Malatesta, che è interpretata appunto da Francesco Patanè, e Marilena, la moglie del boss dei Campo Reale. Loro due, diciamo, si innamorano, quindi iniziano questa storia da prima clandestina e poi che viene resa pubblica, e proprio nel momento in cui vengono scoperti le due famiglie cominciano di nuovo a farsi guerra. E quindi da parte di Andrea comincia questa vendetta nei confronti dei Campo Reale. Questa è un po' la storia base del film, che detta così può sembrare la classica storia di mafia, di famiglie, rivali tra di loro, che si fanno la guerra e vince il più forte, dove c'è l'uomo cattivo, la donna fragile, eccetera. In realtà non è proprio così, nel senso che l'evoluzione che hanno i due personaggi principali è pazzesca, secondo me, in questo film. Perché inizialmente abbiamo Andrea, che è un fragile, una persona che si ritrova invischiata negli affari loschi della famiglia, ma che fondamentalmente è un buono, è un puro di cuore, è uno che ha paura, che non ha mai un fatto del male a nessuno, che semplicemente si ritrova lì perché la famiglia, sono i doveri familiari, determinate cose le deve fare perché la famiglia va avanti così. Ma lui, insomma, non è mai convinto al 100% di fare della violenza. E invece, nei primi minuti del film, Marilena, interpretata da Elodie, si mostra subito come una femme fatale, c'è una che fa capire a tutti sin da subito chi comanda. Infatti, la prima apparizione di Elodie, quasi a inizio film, spiazza perché lei entra in una discussione su chi si deve aggiudicare la Madonna in processione tra le due famiglie rivali e lei entra, insomma, e fa capire a tutti la Madonna appartiene alla nostra famiglia perché, perché qui comando io. Anche se lei non è il boss di quella famiglia, ma la percezione che hai è che nessuno si azzarderebbe mai a mettersi contro questa donna perché è potente e credetemi, il modo in cui compare spacca davvero lo schermo e quasi ti intimorisce. Quindi, anche la figura di Marilene è stata rappresentata, è stata dipinta benissimo e già dai primi minuti da quando compare ti stupisce perché dici hai capito e lo dì, cioè, non solo canta ma è pure bravissima a spaccare lo schermo. Perché parlo di evoluzione? Perché più andiamo avanti col film, non vi spiego per quali motivi, più vengono fuori le fragilità di Marilena che da femme fatale si trasforma in una donna fragile che non ha paura di mostrare le sue debolezze ma di fare di queste debolezze i suoi punti di forza e invece l'evoluzione che ha Andrea è che da uomo fragile, da uomo timoroso si trasforma in colui che deve fare vedere che non ha paura di niente, che comanda e che ha fame di vendetta. Quindi è come se l'anima iniziale di Marilena, della donna forte, provasse a influenzare un po' l'uomo debole che è Andrea all'inizio e le fragilità di Andrea andassero a influenzare un po' il carattere forte di Marilena. Quindi hanno proprio un'evoluzione i personaggi ma ciò non vuol dire che Andrea diventa spietato e basta. Cioè Andrea diventa spietato nel corso del film ma comunque se scaviamo a fondo alla sua anima troviamo ancora il vecchio Andrea. Così come Marilena nonostante ci mostri le sue fragilità sempre di più durante il film se scaviamo a fondo capiamo che è una donna comunque estremamente coraggiosa. Il film poi è girato tutto in bianco e nero perché il bianco e nero è molto contrastato così come sono molto contrastati i sentimenti e tutto ciò che andiamo a vedere tutte le azioni tutto cioè il film gioca tutto sui contrasti contrasti di emozioni i contrasti di sensazioni i contrasti di carattere quindi questo bianco e nero non fa altro che accentuare questi contrasti e una cosa che mi ha fatto impazzire è che questo bianco e nero ci viene mostrato ovviamente sin dall'inizio e il film inizia con dei colpi di pistola che rimbombano fortissimi in sala infatti questo secondo me è uno di quei film che visti in sala spiazza ancora di più rispetto che è visto poi a casa in streaming eccetera e questi colpi di pistola ovviamente a seguito di questi colpi di pistola vediamo del sangue e il sangue nero non è rosso perché appunto il bianco e nero fa sì che il sangue noi lo vedessimo nero e questo nero mi ha dato l'impressione di una crudeltà ancora più accentuata cioè non è una sparatoria dove è morto qualcuno e basta c'è qui il sangue nero è sporco come sono sporche le azioni che vengono fatte durante questo film le azioni sono crude è vero ma il film nonostante parli di una storia di mafia non punta tanto a farti vedere la crudeltà delle azioni mentre si stanno svolgendo o meglio le vedi ma non è su questo che punta l'accento punta l'accento più su il piano che viene architettato la tensione che c'è prima di compiere il delitto la tensione che c'è mentre si sta preparando l'imboscata l'adrenalina mista paura che c'è durante quei momenti che precedono l'istante in cui poi si preme il grilletto e si commette l'omicidio è su questo che viene puntato l'accento sul il meccanismo che scatta in testa ai personaggi e alle persone nella vita reale quando stanno commettendo qualcosa cioè qual è il confine tra ho paura di farlo e l'adrenalina però mi permette di superare questa paura e fare queste cose e soprattutto cosa succede dopo che l'ho fatto cioè quando metabolizzo quello che ho fatto come mi sento e anche in questo c'è un'evoluzione di Andrea che la prima volta che commette un omicidio è distrutto ma poi fa una cosa che non sto qui a spoilerarvi che fa proprio un'azione quando vede il sangue nelle sue mani fa un'azione che ti fa capire che sta avvenendo una trasformazione dentro di lui e tutte queste scelte registiche tutte queste scelte narrative credetemi mi hanno fatto impazzire perché mentre vedevo il film dicevo mamma mia che escamotage narrativi che hanno trovato per raccontare una cosa così comune in maniera davvero originale e innovativa sempre a livello registica a livello di fotografia mi è piaciuto tantissimo perché il film è pieno di primi e primissimi piani qua i primi e primissimi piani non ti permettono solo di leggere bene l'emozione del personaggio ma anche di entrare dentro al loro anime di stare vicino ai personaggi nei momenti in cui i personaggi avrebbero bisogno di qualcuno di una spalla su cui piangere ecco quindi questi primi piani li ho visti un po' come se volessero spaccare la parete che separa loro personaggi da noi spettatori quasi come se ci volessimo avvicinare a loro e insomma provare a a dare loro un po' di conforto anche se la maggior parte delle volte non se lo meritano però ci viene mostrata così tanto la fragilità di questi esseri umani nella crudeltà che non puoi far altro che provare disgusto per quello che stanno facendo ma anche un po' di compassione perché soprattutto i due protagonisti è come se quasi non fossero coscienti di quello che stanno facendo e fossero estremamente trasportati emotivamente da ciò che devono fare per rendere onore alle famiglie quindi l'ennesimo contrasto su cui si gioca ciò che devo fare per rendere onore alla mia famiglia contro ciò che vorrei fare per essere felice questa felicità che non si incontra mai con i doveri perché purtroppo la società non te lo permette siamo sempre abituati inoltre a vedere quando vediamo le cose di mafia che sia mafia siciliana che sia calabrese che sia campana che sia pugliese insomma quando si tratta l'argomento mafia spesso viene accostata a temi religiosi e il film questa è una mia sensazione non ho idea forse sto dicendo una cosa che non è vera assolutamente il film gioca molto con il simbolismo e le iconografie religiose non solo proprio inquadrando dei quadri o dei crocifissi eccetera ma proprio i personaggi in alcuni movimenti in alcune inquadrature in alcune pose mi hanno ricordato proprio delle iconografie religiose proprio per accostare questo tema della fede a fede familiare fede verso la propria famiglia che va difesa fede d'amore fede d'onore quindi i temi della fede a 360 gradi non per forza fede religiosa accostati a queste immagini appunto di iconografie religiose non lo so mi sembra che il film abbia giocato molto sui simbolismi su queste appunto iconografie ma di questo mi dovrei informare ve l'ho detto solo perché è stata una mia percezione comunque si sarà capito mi ha veramente entusiasmato questo film ripeto io sono andato con zero aspettative convinto di andarmi a vedere un film che sicuramente brutto non sarebbe stato ma è veramente un film travolgente secondo me mi ha veramente travolto dall'inizio alla fine mi ha ipnotizzato mi ha emozionato io veramente in alcuni momenti ho avuto le lacrime sia per la storia in sé sia per quello che va a raccontare come lo racconta sia per il fatto che mi emoziona sapere che il cinema italiano sa raccontare benissimo delle storie e quindi non posso far altro che consigliarvi di andare a vedere questo film andatelo a vedere al cinema credetemi anche quei 7 8 9 euro so che magari possono sembrare tanti ma questo film vale il prezzo del biglietto e soprattutto è un film che secondo me va visto al cinema perché anche il lavoro sull'audio e ripeto questi primissimi piani dei personaggi che spaccano lo schermo al cinema regalano tutte altre emozioni e sensazioni quindi se avete l'opportunità andatelo a vedere al cinema perché non ve ne pentirete io vi ringrazio come sempre per aver avuto la voglia e la pazienza di guardare anche questo video vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nessun contenuto e soprattutto vi invito a lasciare un like al video perché per me è davvero importante per far crescere il canale inoltre vi invito anche a lasciare un commento qua sotto mi raccomando commentino spoiler e fatemi sapere se l'avete visto se vi è piaciuto se non vi è piaciuto insomma tutte le sensazioni che avete provato se anche voi come me vi siete emozionati o amate il cinema italiano però ripeto non spoileriamo niente se vogliamo parlarne tranquillamente non rischiando di fare spoiler potete seguirmi su instagram e contattarmi in direct e lì ne parliamo senza alcun tipo di problema e io vi aspetto al prossimo video DAIE DAIE